Cominciamo con il parlare di questo progetto di ricerca Placemark e in che cosa consiste? Sì, è un progetto di ricerca che si basa sulle immagini satellitari, quindi quelle immagini che abbiamo e che vediamo sempre più spesso del nostro pianeta visto dallo spazio. Sono immagini che ci raccontano molto bene soprattutto quelli che sono i grandi cambiamenti che il nostro pianeta sta vivendo e quindi l'urbanizzazione, quindi l'inquinamento, quindi la desertificazione. In particolare Placemark nasce con un focus specifico sul continente africano perché è proprio in Africa dove questi cambiamenti stanno avvenendo più velocemente non solo i cambiamenti negativi come la desertificazione ma anche i grandi cambiamenti demografici e quindi una vista dallo spazio ci permette proprio di raccontare molto bene come il mondo e come il continente africano in particolare stanno cambiando e si stanno evolvendo. Tenendo conto che siamo tutti connessi, quello che sta accadendo in Africa comunque interessa anche a noi direttamente. Quali sono i principali cambiamenti che si possono osservare, quelli più se vogliamo anche emergenziali presenti nel continente africano e che voi raccontate anche nella mostra fotografica ospitata al Museo Africano di Verona? Sicuramente come dicevo l'avanzata dei deserti, quindi pensiamo a contesti tipo il lago Chad che negli ultimi 50-60 anni è praticamente scomparso e quindi la perdita sia di acqua che di veri e propri ecosistemi grazie ai quali sopravvivono milioni di persone. Quindi anche tutto il tema delle migrazioni molto spesso è legato in maniera diretta a questi cambiamenti. Poi ci sono cambiamenti legati anche allo sfruttamento del territorio, penso ad esempio alla Repubblica Democratica del Congo dove negli ultimi 10-15 anni c'è stata un'esplosione di quelle che sono le miniere di rame e di cobalto che sono materiali che sono sempre più richiesti soprattutto per le batterie dei nostri dispositivi elettronici o anche dei nostri veicoli elettrici. Quindi quello che è la transizione ecologica a volte nel continente africano e in alcuni contesti si riverbera con effetti che a livello ambientale sono molto dannosi e in alcuni casi proprio disastrosi. Certo, di questo dobbiamo avere sempre più consapevolezza proprio per il discorso che si faceva poc'anzi che questi dispositivi che noi quotidianamente utilizziamo hanno un prezzo e non è solo quello che paghiamo direttamente al rivenditore ma in termini di anche devastazione dell'ecosistema in alcuni paesi del continente africano in particolare. Tra l'altro in questa mostra dei gesti dell'acqua le 12 fotografie che vengono, 12 immagini satellitari che offrono questo sguardo all'alto, sono anche accompagnate dalla possibilità di una descrizione che consente al visitatore di cogliere proprio direttamente utilizzando uno smartphone per esempio quella che è l'evoluzione dell'area rappresentata in quell'immagine. Sì esatto, l'idea è quella appunto di raccontare attraverso questo filo blu diciamo che ha l'acqua come protagonista alcuni luoghi particolari del continente africano in cui appunto il rapporto fra uomo e acqua è particolarmente interessante e di poterli poi approfondire proprio per vedere come questi luoghi sono cambiati nel corso del tempo o come si stanno evolvendo e quindi tenere comunque al centro l'idea dei gesti ci fa pensare anche a un ruolo diverso che ha l'Africa che di solito viene vista come il continente in difficoltà il continente che ha grandi problemi ma è anche un continente che ci può insegnare tante cose soprattutto da un punto di vista del rapporto con l'acqua noi oggi iniziamo a vivere anche nei nostri contesti quella che è un'emergenza idrica quindi a scontrarci con un'acqua che sempre più spesso manca o che al contrario sempre più spesso crea disastri e problemi ecco alcuni contesti penso alle città del Sahel del deserto dove l'acqua è una risorsa preziosissima e scarsissima ci insegnano proprio l'importanza ad esempio di valorizzare ogni singola boccia così come in altri contesti come le risaie in Madagascar ci insegnano l'importanza di modellare il territorio anche proprio per essere complementari il più possibile a quelli che sono gli abballamenti e quindi anche in questo caso a valorizzare il più possibile l'acqua anche da un punto di vista della produzione agricola e della sua esistenza. E con questo progetto di ricerca Placemark è ideato appunto da Federico Moni che è portato avanti insieme al collega giornalista Michele Luppi che ricordo è redattore del settimanale di Como e anche collaboratore dell'agenzia SIR oltre che di Nigrizia l'agenzia SIR che noi utilizziamo spesso come punto di riferimento di notizie per quanto riguarda questo programma. Per poter vedere direttamente e incontrare quello che è il percorso che voi state facendo con questo progetto avete un sito col quale poter vedere le immagini ma soprattutto quello che è l'analisi che state compiendo sul continente africano. Ce lo può ricordare per cortesia? Certo www.placemarksafrica.org e qui c'è proprio una rassegna abbastanza completa di immagini che raccontano sotto diverse tematiche quindi dall'urbanizzazione alle nuove infrastrutture ai paesaggi agricoli ai villaggi ancora tradizionali proprio una fotografia dall'alto dell'Africa di oggi con le parti che sono ancora tradizionali e che quindi vanno salvaguardate perché rischiano di scomparire e con invece quei territori e quei luoghi che invece sono oggetto di una forte fortissima evoluzione e a volte ci sorprendono perché a volte scoprire ad esempio che in Africa si stanno costruendo enormi parchi fotovoltaici di energie rinnovabili molto più grandi di quelli che abbiamo normalmente in Europa può essere anche una sorpresa significativa perché ci racconta proprio di un continente che sta correndo in tutti i sensi verso il futuro